Ciao a tutti, sono Antonio, mi trovo al Rainer Spring Desert Inn, è una piccola eosi in mezzo al deserto, se viaggiate da Alice Spring verso Darwin potete fermarvi qui per riposare, c'è un camping molto simpatico nel verde, quindi un bel giardino verde dove poter piazzare la vostra tenda, o altrimenti se preferite un piccolo bungalow potete noleggiare uno di questi bungalow. La location è molto simpatica, molto tranquilla, c'è una piscina dove poter fare il bagno, molto fresco, c'è un bar all'interno, un ristorante, un'area giochi con un piccolo biliardo, una televisione, un bersaglio per le freccette, è un posto molto simpatico per fare una sosta se siete in viaggio.